Come avete letto dal titolo adesso lavoro in banca e vi avevo postato qualche spoiler nelle storie Instagram qualche giorno fa. In questo video voglio fare un po' di considerazioni a riguardo per toccare diversi argomenti di cui spesso si parla sui social ma secondo me in maniera un po' malsana. Innanzitutto io sono Giacomo, laureato in finanza e trader e in questo momento gestisco un conto crop da 100.000 dollari. In questo canale condivido quella che è la mia esperienza riguardo ai mercati finanziari quindi ricordati di iscriverti per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Come sapete sono laureato in economia dei mercati finanziari e questo per quanto riguarda la laurea triennale ma al momento sta aggiungendo al termine anche quello che è il percorso della magistrale e dunque inizio anno avevo iniziato a inviare il mio curriculum e a fare i primi colloqui. Tutto questo fino a quando dopo aver fatto quello che è il colloquio prima conoscitivo con le char e poi quello tecnico con il manager del team ricevo conferma di essere stato selezionato da questa banca di cui al 99% già conosci. Ho iniziato da qualche settimana e devo dire che per me è molto importante questa posizione perché mi permette innanzitutto di stare a contatto con i mercati finanziari che è quello che come sapete è quello che più mi piace ma addirittura mi permette di approfondire cosa c'è dietro soprattutto per quanto riguarda i fondi e altri investitori istituzionali. Vista la natura della posizione ovviamente non posso dirvi molto a riguardo ma ho deciso di fare questo video un po' come aggiornamento e per raccogliere vostre eventuali domande qui sotto nei commenti anche per eventuali prossimi video. L'altro motivo che poi è quello secondo me più importante è quello di spronare molti di voi che spesso magari mi scrivono sui vari social e sono indecisi riguardo la propria carriera universitaria e lavorativa. E questo accade perché spesso molti personaggi sui social che si autoprogrammano guru tendono a snobbare quello che è il percorso universitario. Anzi alcuni addirittura dicono di aver frequentato l'università ma poi l'abbandonano perché non faceva per loro. Ma come ogni obiettivo se quello che vuoi veramente raggiungere difficilmente abbandoni alla prima difficoltà. Specialmente poi se la laurea è quella che ti permette di fare quello che più ti piace come lavoro nella tua vita. Infatti come cerco sempre di condividere con voi anche in vari diversi altri video l'università vi dà delle basi che dovrete poi essere voi bravi a sviluppare e incalanare. Ovviamente questo tipo di discorso potrà non toccare alcuni di voi ma invece so che la maggior parte di chi mi segue ha più o meno la mia stessa età se non addirittura inferiore e quindi si trova un po' in quella fase di passaggio che va dalla scuola al lavoro. E quindi quello che voglio fare è condividere semplicemente la mia esperienza e lasciare poi a ognuno di voi le proprie considerazioni. Ma l'aspetto secondo me più importante dell'università è il contesto in cui ci si trova a crescere perché hai l'opportunità di conoscere un certo tipo di persone con cui hai sicuramente degli interessi in comune perché alla fine avete scelto di fare magari lo stesso corso universitario e quindi potrebbero diventare un domani i vostri colleghi. Questo perché il percorso universitario lo reputa appunto un percorso e in quanto tale tra alti e bassi anch'esso ci dà quella fase di crescita. Inoltre in questo canale parliamo di trading quindi se stai vedendo questo video è perché probabilmente ti piacciono i mercati finanziari e puoi capire come renderli il tuo lavoro. E se tra i tuoi obiettivi c'è quello di lavorare all'interno di quelli che vengono considerati gli istituzionali e gli investitori istituzionali, beh questo non è possibile senza una laurea perché a prescindere penso verrai scartato in automatico dagli HR. Questo magari salvo tu abbia una particolarità così rara e rilevante per loro tanto da bypassare il fatto di non avere magari una laurea. Quindi una laurea ti apre anche a questo tipo di opportunità e ti permette comunque di imparare ciò che altrimenti non impareresti mai perché solo determinati concetti, determinate cose puoi impararle se effettivamente lavori all'interno di quella che è una banca come può essere qualsiasi altro istituzionale, un fondo. E questo vale anche se un domani vorrai lavorare in proprio. Infatti spesso sento sui social io non voglio lavorare di nessuno e questo va benissimo ma nel creare qualcosa di proprio servono delle conoscenze che solo lavorando in certi posti si possono assimilare. E il fare la famosa gavetta credo sia importante sia a livello personale che a livello professionale. E la maggior parte di tutti gli imprenditori è passato comunque da una fase di gravetta prima di arrivare al proprio obiettivo di creare appunto un'impresa per conto proprio quindi senza bruciare le tappe perché poi alla fine è il percorso che ti rende effettivamente quello che vuoi diventare. Creare qualcosa di proprio credo che sia l'obiettivo di molte persone e quel qualcosa nel mio caso è questa community, questo canale YouTube oltre ovviamente a quello che sono i mercati finanziari e quindi al trading. Se anche tu come me condividi questa passione beh non ti resta che iscriverti al canale e come al solito io spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato d'aiuto soprattutto e noi ci vediamo un prossimo video come sempre.